Abbiamo di una nevicata attesa per la notte, se ne sta parlando da diversi giorni. Certamente sarà molto intensa in quota, ma potrebbe farsi valere anche in pianura. L'ora X potrebbe essere la mezzanotte, all'inizio sarà soprattutto pioggia, poi quando la temperatura si abbasserà potranno iniziare gli accumuli che il nostro meteorologo Marco Rabito stima in 10 cm in città, mentre nei comuni dell'Ovest, Chiampo, Arzignano e Valdagno in particolare, si potrà arrivare anche a 20-30 cm. Sarà ovviamente più intenso il fenomeno sull'altopiano di Asiago, dove l'accumulo a terra è atteso intorno al mezzo metro. I comuni comunque si dicono pronti, i piani neve sono stati attivati e dunque speriamo di non avere brutte sorprese domattina dalla neve.